Presidente della Proloquo di Donana, che vi porta un salutino. Allora, buonasera a tutti. Perché il sangue non si fabbrica, il sangue si dona e basta. Ne ho letto, Presidente. Una festa dell'Aves insieme. Grazie per avermi invitato a questa bellissima serata. Come consigliere nazionale porto un saluto sia del Presidente Vincenzo Saturni che del Consiglio nazionale. Il sangue è amore per la vita e chi ama la vita dona amore con il sangue. Funzionata? Sì? No, dai. Adesso siamo un po' di amici. Il sangue è infinito. Chi dona sangue salva l'infinità di vita. Doni un sorriso che venga felice il cuore. Io da donna ho il dono di dare la luce e la vita. Da donatore do la vita a un essere umano. Hai la possibilità di aiutare e di aiutarti. Perché non provi? Abbiamo sempre paura di dare, ma mai di ricevere. Un grande impegno per noi, eh? Un grande impegno per noi. Qualcuno lì. Non tutti sanno. Non me lo ricordo. Io fate bene agli altri e fate bene a me stesso. Le fan square, la colpa suge. Un dono per la vita, quella speranza del cuore, per la vittoria comune. L'Avis ha bisogno di una mano. Aiuto l'acqua e il tuo sangue poligiano. A questa iniziativa dell'Avis di Porto Viro. Siete sempre nei nostri cuori. Ciao Antonino e Gelita Zingali. Sono da casa sconvolta. Ho detto a mio marito, amore, ho visto centinaia di piselli lunghi, larghi, grossi. Ce n'era anche come quello mio. Sì, ma io vendeva mazzetti, però, eh. Lo biologico. Siamo Bagoloni. Io ho trovato della vita, signora, fra il dialetto veneto e il giapponese. Mister Avis Porto Viro. 2013. E' Massimo Toscolo. S'è scritto qua. Io da donna ho il dono di dare la vita a la luce. Da donatore do la vita a un essere umano. Oh 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 Grazie a tutti.